Un po' scettico nel prendere qui il Flex 2005, anche perché poi non sapevo se con 5W riuscivo a pilotare l'amplificatore. Io comunque l'ho provato anche sull'OMM, con 5W mi dà 800W, con 5W mi dà 800W. Poi c'è l'altro amplificatore autocostruito, quello con la vangola americana, la AMAC, la 8295 America, con passante delle prove, con 5W me ne dà 500W. E questo è il quanto, caro Antonio. Oggi il tempo qua è più, cioè che è coperto, ma pare che domani mi pare che ci sia la pioggia. E questo è il quanto. Io anche questa settimana ho fatto pochissime radio, ho fatto un po' di attività di ex.